L'Aldo è un bel muro. Che è platista, diciamo, da che vive povesse nel territorio, da che vive povesse nel musico, diciamo che è stato un bravo prieto. Perciò, diciamo, parveglietta, si morono al festival, se non si è piaciuto, che vive un malo, una rete, un malo giù. Poi, non ho usato, non ho usato, non ho usato. E così, non ho avuto un po' di noi. Questo nuovo luogo, diciamo, è un luogo di Reciana. Reciana è un luogo di un grande luogo, perché noi ci troviamo una cosa, diciamo, di non funzionare le palazze. Cioè non funziona, non abbiamo un sacco, abbiamo un vicino sacco, abbiamo un sacco, abbiamo un sacco di sloveni, ma siamo molto poverati nel territorio. Noi siamo poverati, diciamo, di sedele a una stvaria, diciamo, se pensi di questa animazione, di questa alta cultura, in questo caso si sannemano queste stvarie. In questo caso c'è un grande problema. Un grande problema. In questo caso c'è una stvaria che c'è una tasca di ricerca. C'è un sacco di slovenire, diciamo, oggi accettiamo, abbiamo detto, per i nardelli, per i volantini, per sapere le fabbriche delle muri. Tutti i blu avanti sono stati all'interno. E' un sacco di slovene, per aiutare la cultura e le strutture. Potremmo, diciamo, con la prima cosa, la scuola si è un sacco di sloveni, ma oggi, non ho sentito, non ho sentito, perché, non ho sentito, non ho sentito, non ho sentito, non ho sentito, non ho sentito. che, 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 c'è, per collegare la cultura con la realità. Se tu non hai un uomo, non deve essere una cultura. La cultura è buona, ma gli italiani pensano che è meglio un uomo vivo che un dottore morto. E questo è un grande problema. Il grande problema è, diciamo, che in questi giorni siamo diversi dai problemi, dai nostri problemi. Come si diceva che cosa sia in questo sistema funziona anche in questo problema. Per fare le cose che ci sono modi. Perché tu faceva quella cultura, perchè tu faceva le cose che ci sono. Lei deve dire che te si fanno perché c'era tutto questo... dove si fa qualcosa di importante? Dopo ti puoi sapere. Grazie a tutti